Salve a tutti maledetti, prima cosa importantissima sul mio canale telegram che troverete in descrizione o anche qui se riesco a metterlo da qualche parte, potete trovare un evento super ultra figo che unisce vacanza, culinarietà, giochi, storia e per chi ha voglia tanto 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 mare. Torniamo a noi, dopo l'attentato in Turchia di qualche giorno fa all'aeroporto Atatürk di Istanbul chiuso con un bilancio di 44 vittime rivendicato dall'ISIS, ecco un altro attentato rivendicato dall'ISIS, questa volta in Bangladesh, in un ristorante di Dhaka. Sono state uccise 20 persone, tra cui anche molti italiani. In questo momento parecchie domande dovrebbero venirti in mente, del tipo come mai due attentati in così poco tempo, come mai stanno attaccando nazioni prevalentemente musulmane e come mai con tutto che ci sono gli europei non attaccano la Francia? Tutto molto curioso effettivamente, ma unendo le tre domande poste, poc'anzi, mi verrebbe subito da pensare, hey, ma l'ISIS sta perdendo potere, nel momento nel quale ci sono gli europei in Francia per far parlare di loro, invece di attaccare la Francia stessa appunto, come già fatto, dato che non riuscirebbero a farlo, hanno deciso di puntare su nazioni meno pronte ad un attacco terroristico quali Turchia e Bangladesh, esclusivamente per far parlare di loro, ma senza rischiare che la loro azione venga fermata preventivamente. Questo porterebbe a pensare che la loro forza, o comunque il loro potere basato sulla paura, a livello di media, stia scendendo ed hanno bisogno di mantenere alto quel senso di pericolo. Sarebbe la mia main considerazione, ma non sono del tutto sicuro, prescindendo che ovviamente tutto questo lo posso pensare in riferimento ad oggi, magari domani fanno esplodere tutta l'Europa, è bon, ma comunque potrei essere tranquillo nel dar alla frutta l'ISIS, ma di certo non il fondamentalismo islamico. Siamo passati negli ultimi anni da avere come nemico Al-Qaeda all'avere l'ISIS. L'odio esiste, la paura esiste e chi vuol far sfruttare entrambe le cose, che fidatevi di me, hanno un po' tutte le nazionalità e le religioni, esiste ancora. Quindi, per mantenere questo stallo tra Oriente ed Occidente, questo stallo fondato sulla paura, dove esiste una forza islamica che faccia stringere il culo alle persone, anche quelle persone che abitano in paesini sperduti dell'Italia, per dire, ed un islamico terrorista non lo vedranno mai nella vita. Quindi no, non credo che stia scemando nulla, magari il canto del cigno dell'ISIS prima di passare la fiaccola dei nemici dell'Occidente ad un'altra organizzazione, magari sono semplicemente un paio di attentati per far rimanere alta la guardia e l'odio, ma di certo non è la fine di questa finta guerra fredda moderna, quella nella quale la percezione del terrore, dell'odio e della paura continua a smuovere milioni di persone, a far scelte irrazionali, sia da una parte che dall'altra e soprattutto smuovere miliardi di dollari in tutto il mondo. Bella a tutti, statemi iscrittamente bene, il vostro VicLeib. Grazie a tutti. Grazie a tutti.